Salve terrapianisti, qui è Paul on the plane e state in piano, come sempre. È da un po' che non pubblico un video. Mi sono preso una piccola pausa perché è impegnato in altri progetti. Mancano circa 40 giorni alla prossima conferenza internazionale sulla terra piatta a Riley, nella Carolina del Nord. Sono super energizzato di incontrare molti di voi e di gustarmi quei pochi giorni senza fare niente, solo terrapiano. Spero che possiate farlo anche voi. Scrivetemi una e-mail a paulontheplane.com per coordinare l'orario e incontrarci. Il video di oggi è un piccolo esperimento che ho fatto il mese scorso, realizzato mentre ero in giro per lavoro. Sono tornato sul lago Tahoe. Molti di voi ricordano l'esperimento sull'acqua convessa di 29 km sul lago Tahoe. È stato lo scorso marzo dove ho tirato le conclusioni che o la grandezza della terra è molto più grande di quello che ci raccontano oppure semplicemente piatta. Non ho trovato alcuna curvatura d'acqua sui 29 km, anche se l'immagine del lago Tahoe che abbiamo fra virgolette dallo spazio mostra una curvatura enorme. Ci sono due casinò sulla spiaggia a sud, alti circa 60 metri e riuscivo a vederli da una distanza di 29 km con la mia Nikon P900. Fate voi i calcoli, non dovrei vederli a causa della curvatura, ma cambiamo argomento. Questo esperimento è un altro esperimento con l'app Bolla a livello. Sì, ho volato da Seattle in Irlanda lo scorso giugno per testare la presunta curvatura con l'app Bolla a livello, ma ho verificato che non c'è alcuna curvatura. Abbiamo sempre volato sopra una terra, piana, immobile, per migliaia e migliaia di chilometri. Ho realizzato anche un video quando ho viaggiato per oltre 320 km per misurare la curvatura con l'app, ma ovviamente non l'ho trovata. È curioso che tutti quelli che cercano di misurare la curvatura non ci riescono. È strano, vero? Ma torniamo all'app Bolla a livello sul nostro telefonino. È curioso di quante persone ancora pensano che l'app Bolla a livello sia simile alla livella tradizionale, che invece si può bloccare in qualsiasi orientamento o angolo o grado. Pensano che non possano mostrare il cambiamento della bolla, specialmente dopo molti chilometri, ma non sanno come funziona questa tecnologia, credo. Si può bloccare l'orientamento del telefono come nello spazio con l'app Bolla a livello e vedere che la bolla si muove fuori dal centro dopo un periodo di 30-60 minuti, come dovrebbe succedere con la presunta rotazione, della Terra. Per i difensori del globo sapete questo, vero? Intendo dire che se il telefono è bloccato come nello spazio, in una determinata orientazione, ogni movimento del cellulare registrerà un cambiamento della bolla, ogni movimento angolare del telefono. Ovvio che registrerebbe il cambiamento della bolla. Pensateci a questo, ok? Molte persone hanno sperimentato che il telefono è molto sensibile, in grado di misurare la rotazione della Terra, ma è curioso che nessuno ha mai registrato questa rotazione, ok? Ma cambiamo ancora argomento. Ho ricevuto molte risposte sul video da Seattle in Irlanda, dove si dice che fintanto si vola da ovest verso est, mentre la Terra dovrebbe ruotare da est verso ovest, che semplicemente è dove ho volato, fra virgolette, insieme alla rotazione, rimanendo praticamente sulla stessa latitudine, anche se in realtà ho volato verso nord. L'app della Bolla a livello non poteva registrare alcun cambiamento, perché praticamente sono rimasto nella stessa posizione di quando ho lasciato Seattle 15 ore prima. È un po' stiracchiata, ma pare che si tratti di un tema ricorrente che ricevo addirittura anche dal grande Jerry di Geranet su Globbuster in un episodio settimanale, hanno commentato in seguito che avrebbe dovuto fare lo stesso esperimento in un viaggio da nord a sud o da sud a nord, perché così quell'argomento non poteva essere valido. Bene, ecco l'esperimento che ho fatto qui. Ho volato da Reno nel Nevada a Seattle Washington, che è chiaramente una rotta da sud a nord, come potete vedere su questa mappa. Pertanto non c'è alcuna possibilità che abbia volato nel verso della presunta rotazione, che avrebbe potuto essere la stessa posizione relativa dopo un volo di due ore e mezza fra i due aeroporti, ok? Questi i miei risultati. Ho scattato un'immagine dell'app Bolla a livello seduto sull'aereo a Reno e qui potete vedere l'orario sull'immagine che segue con altitudine e longitudine fra le due app che confermano la mia posizione su una terra piana, immobile e piatta, quella dove viviamo. Queste coordinate mostrano che mi trovavo qui quando ho rilevato la prima misurazione e che poche ore dopo, una volta atterrato a Seattle, ho fatto la stessa cosa. Ho fatto lo screenshot dell'app Bolla a livello e come potete vedere nessun cambiamento. Avrebbe dovuto trovarsi fuori di almeno qualche grado. Voglio dire, considerando che ho volato per circa 900 km Seattle dovrebbe trovarsi a circa 64 km sotto l'orizzonte o 40 miglia da quando mi trovavo a Reno. Dovrei vedere un po' di gradi, gente. Queste sono le mie coordinate rilevate sulla pista di atterraggio a Seattle una volta arrivato dove ho registrato la seconda e ultima misurazione. Quindi, eccolo qui, il mio secondo esperimento. Dopo quello da ovest a est, qui l'esperimento di viaggio sul presunto globo da sud a nord. Ma, disgraziatamente per i difensori della terra a globo, la maledetta, inafferrabile curvatura ancora una volta non si trova. Quando succederà che qualcuno sarà in grado di misurare questa cosa maledetta, eh? Mi auguro vi sia piaciuto anche questo breve video e spero di trovare molti di voi a Raleigh il prossimo novembre. Inviatemi una notifica se ci sarete. Fino allora, come sempre, state piatti. Qui, Paul on the plane. Pace. In chiusura di questa traduzione, dove si è parlato di convegni esteri, comunico con piacere il secondo evento italiano che ha luogo sul bellissimo lago di Garda il prossimo 7 aprile 2018. Con soli 35 euro di iscrizione, oltre alla partecipazione compreso il pranzo. Nell'immagine trovate tutte le informazioni utili. Non aspettate l'ultimo momento, assicuratevi il posto per tempo. Un saluto sincero. Un saluto sincero.